Salve a tutti ragazzi e bentornati qui su The Suri Joystick. Oggi sono qui per dirvi una cosina tunze promuse, una cosina bella. Allora, il nostro canale ha subito un cambiamento, ha subito un cambiamento non quello che interessa l'hacktower, ma quello che interessa noi. Perché, come potete vedere, facciamo sempre video di recensione, quando facciamo le descrizioni, le vedete, facciamo il possibile, che ne cazzo siamo, no? E non facciamo pericolare nessuno, ma ecco il cambiamento. Eccoci qua ragazzi, anche noi ci siamo rinnovati, ci siamo rinnovati con una macchina, tu sei tu, che rappresenta il nostro canale, quello su The Suri Joystick, quindi è The Station, e il primo viene a provarci, qua. Poi lo so più bianco, ma lo fai da Stiponi, quindi, con DSG, qua, con DSG. Una cosa carina che io volete fare per il canale, e niente ragazzi, alla prossima!